ciao creatura io sono Icate Splendenti benvenuta o bentornata nel regno di quella di ASMR in questa giornata di pioggia ho deciso di realizzare il video decluttering della mia borsa visto che l'ho fatto tanto 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 tempo fa mi era piaciuto e i più i veterani probabilmente ricorderanno che io avevo la mucchina ancora prima che andasse di moda se senti dei rumori strani è perché fuori piove la borsa è sempre quella e l'unica cosa è che vedo un'otto che ha molti più peli di prima è Sam che si piace straniarsi sopra avendo un gatto di tre colori dove si appoggia e appiccica qualsiasi pelo perché sul nero si vede il bianco sul bianco si vede il nero il rosso eccetera eccetera questo questa borsa mi piace molto perché punto primo io adoro le borse da scappani secondo è a doppia chiusura ovvero ha sia una cerniera interna che queste chiusure qui tipo zaino ma andiamo a pulirla praticamente a fare un bel decluttering dell'interno che ha qualsiasi cosa dentro allora prima troviamo queste tasche vediamo che cosa c'è all'interno non me ne ricordo minimamente nella prima tasca troviamo un pettine che un gentil signore mi ha regalato ad un mercatino vintage praticamente dimensi gamma machia non l'ho mai usato ma lo tengo sempre in borsa perché mi è piaciuto che è da niente mi ha regalato sto si vede che faccio simpatia non lo so mi ha regalato questo pettine c'è questo specchio che ho trovato all'interno della confezione delle lenti a contatto e direi che posso tenere anche questo cos'è sta roba? allora c'è una caramella alla menta questi elastici che devo buttare via perché ormai sono diventati troppo larghi poi guarda sono tutti rotti via devo comprare degli elastici per i capelli nuovi queste che tanto non posso più assumere erano le uniche medicine che mi facevano passare mal di pancia mal di testa qualsiasi cosa ma adesso non le posso più prendere perché mi fanno venire mal di stomaco vediamo un'altra caramella una caramella direbbe il mio amico Mr. Cream il vice spinner più bello del mondo quello con l'occhio del drago le ali e la vicina che fa casino e il treno che passa fa un rumore magari non troppo smr perché è un po' metallico non lo so a me piace comunque questo lo tengo basta la prima taschina è andata quindi io di queste cose terrei il pettine il fidget spinner e lo specchietto seconda tasca altre medicine oddio dirò fuori tutto direttamente e lo vediamo insieme sono piena di medicine ok allora sono piena di queste cartine qua che sono l'involucro delle come da masticare che ho comprato al Lidl e quelle viola le ho già venite erano la minta invece quelle lì rosa bellissime fucsia sono queste qui alla fragola buonissime fatte così mi piacciono molto perché sono anche senza zucchero quindi beh questo già dici su che lo tengo poi ho questo puro cacao al cocco ovviamente e sa troppo da cocco a duro e quindi lo teniamo poi ho questa che è un topo puntura di zanzara all'aloe ed è molto utile quando ti spungono roll on non so se si vede va sul nero e funziona quindi lo teniamo e io vengo sempre divorata dalle zanzare quindi ho bisogno di queste cose nella mia borsa poi abbiamo ancora queste pastiglie ancora di queste pastiglie vedo ora carte di caramelle vedo di caramelle scusa che giù in gama pastiglie pastiglie e questo che non è rimasto lì e si è sciolto in borsa era un integratore alimentare con 1,8 grammi di proteine inolina e vitamina D e sono praticamente delle parrette di cioccolato non parrette proprio tipo tavoletta di cioccolato però fatta così erano buone però questa mi si è sciolta la tenevo lì perché se avevo bisogno quando ero in giro vabbè no non volevo fare pubblicità una chiavetta usb che non so cosa contenga e quindi va bene penso della musica la teniamo e poi c'era beh un centesimo sono ricca ok andiamo a vedere all'interno cosa troviamo già spuca fuori una bottiglietta di shreps mezza finita direi che la possiamo anche togliere non le avevo finite le gomme quanto ce ne sono tutto mezza ho ancora due gomme da masticare di quelle a gusto warm mint queste confezioni oltre ad essere culla hanno anche l'involucro molto bello c'è questi colori qua tenevo appunto l'incarto perché pensavo sempre potrei farci qualcosa e poi alla fine non ci ho fatto niente buttiamo via e basta e poi quando sono in giro non voglio buttare per terra le carte quindi di solito le metto nella mia borsa andrò a riporlo insieme alle altre gomme da masticare poi c'è la mia mascherina che ho fatto io che predeligo tra tutte le mascherine che ho fatto poi c'è un altro un sacco di mascherine perché le cose in cui dovessi dimenticarne una ne ho di scordo succede che ne sporco una ma non lo so non si sa mai ho questa che avevo ancora prima del coronavirus del periodo pandemia e che è sempre di stoffa con questo teschio metà teschio disegnato che si illumina al buio tra l'altro una penna di tiger di quelle trovate nelle mystery box ed è blu questa anche se è verde però scrive in blu questo che però non riesco più a utilizzare perché si è troppo allargato era un ex elastico per capelli a forma di rane bellissimo però appunto usandolo troppo si è troppo allargato adesso non è più elastico quindi niente dovrò non lo butto via però non lo porterò via con me poi ho questa che è una di quelle borsine per la spesa riutilizzabili e sarebbe dell'audi però facciamo pubblicità è bella nera e poi si apre insomma è molto grande e poi mi piace perché chiudendola occupa veramente poco spazio che diventa una pallina ha anche un bel suono intanto lo tengo fuori giustamente un'altra penna perché possono sempre servire questa è una penna nera ma ammetti che mi servono una penna nera non blu ce l'ho e fasoletti di carta usaggetta direi che servono sempre per ogni situazione non solo per soffersi il naso ma altra moscherine fatte da men stoffa questa tutta nera e questa che è dubbio faso proprio da un lato è militare dall'altra è nera l'ho l'ho fatto indossare al microfono poi c'è il mio portafogli che l'ho cambiato non so se l'avevo mostrato ed è molto più sobrio ed elegante di quello che avevo ovvero quello con i teschi è molto più discreto diciamo e anche più molto c'è l'altro tutto rotto ha la cerniera qui qui ho il santino di michael che mi ho fatto per scazzare io lo tengo davvero ho detto che l'avrei tenuto dentro il mio portafogli e l'ho fatto per davvero non si vede eccolo sa michael non so se stai vedendo questo video però è michael di porto io faccio sempre le cose che dicono sono una celatana qui ci sono le vecchie foto e le nuove foto tessera che ho fatto per la carta di identità guardiamo sono orribili guardiamo erano molto più belle quelle di quando avevo i capelli verdi poi vabbè le solite cose vabbè non è decluttering del portafogli perché alla fine è abbastanza in ordine ho ancora il mio dollaro tra l'altro e non sto scherzando non so se nel primo decluttering ce l'avevo è un vero dollaro che mi aveva regalato Greg e l'ottenuto e l'otterrò sempre penso perché insomma è un bel ricordo qui ho delle monete ovviamente nel portamonete poi ho anche una foto ricordo che oh non posso farla vedere perché c'è un minorenne una minorenne comunque è una foto ricordo di famiglia potrei fare così col dito metterla sopra la minorenne a meno che probabilmente non si vedrà nulla comunque perché è talmente piccina tra l'altro qui avevo dei capelli da urlo molto belli li avevo ancora lunghi qui avevo fatto la tinta bionda e li avevo messi fatto tutti i boccoli erano troppo belli e e niente non sembra neanche io troppo bella e ovviamente abbiamo tutti i picchieri di sprizzo in mano adoro e questa è stata stampata lì al momento e la foto di famiglia di mia madre però la famiglia di mia madre e gli occhiali da sole non mi ricordo quali sono qua all'interno perché ho due o tre paia e li alterno ah ok quelli proprio da sono un po' sporchini da pulirli questi qua sopra e delegati giusto vanno bene anche per i funerali io che ero sempre restita da funerale una volta ero sempre vabbè battuta la mochina però versione non una mochina ovviamente gel antisettico questo è il migliore secondo me perché ce ne sono tanti che appiccicano e invece ti c'è ti danno una sensazione scradevole alle mani invece questo qua non appiccica si asciuga rapidamente un po' brucia perché ce l'ha però brucia solo se hai dettaglietti io ne ho spesso perché Sam giochiamo insieme lei insomma è un gatto poi le chiavi di casa direi che queste non le butto via poi un altro portamonete che uso spesso quando vado al mercato tipo quello del martedì o quello del sabato di Padova dove compro le cose rimanenze di mercato vintage proprio così vintage perché mi bastano solo le monete quindi tengo spesso le monete da usare ai mercatini perché le cose costano di solito quelle che acquisto io non più di 3 euro quindi mi scoccia dagli 20 euro 10 euro 5 euro e mi piace tagliare direttamente i monetini perché ho questo portamonete con il viso di un gattino un setto di un gattino ed è anche un po' peloso un po' peluscioso PS ieri mi sono preso una camicia nuova di Jack Jack Johnson Jack una roba del genere Jack Johnson potrebbe essere poi gli auricolari che di solito li uso soltanto quando sono in treno in giro che se qualche mio amico mi manda qualche audio allora me li voglio ascoltare per gli affari miei o per ascoltare la musica a volte quando mi porto via il lettore mi dimentico a casa altri 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 pazzoletti queste sono le gomme da masticare più buone del mondo e me le sto proprio tenendo da per tutte le vicosol queste qui action sono buonissime sono le mie preferite senza zucchero ovviamente questo l'ho messo da poco all'interno della mia borsa non fumo però ho pensato che potrebbe servirmi in qualsiasi momento non so per quale motivo ma ho pensato nelle mie eterne paranoie che non ho niente nella borsa con il quale fare fuoco e quindi ho detto boh metti che mi serve per buono so cosa mi sono messo un accendino nella borsa metti che sono in giro devo accendere una candela e nessuno ha un accendino ce l'ho io devo assolutamente assolutamente accendere una candela e quindi ecco non bruciare qualcuno eh scherzavo allora un power tank è sempre utile dato che il mio telefono e prendi sicuramente scarico perché è vecchio e quindi ho questo ricaricatore di di batteria portatile per il telefono che avevo preso mille anni fa su Amazon e ancora funziona non posso farne a meno un piercing perché è un piercing da dove proviene questo piercing non ne ho idea c'è un piercing ci sono delle monete è sempre bello trovare delle monete ok altre carte di di chewing un assorbente un centesimo un centesimo basta adesso andiamo nella taschina interna segreta c'è un asciugamano che devo lavare perché è sozzo a forma di kiwi adesso lo vado a lavare poi c'è un'altra penna ma oddio ma questa penna è esplosa aiuto c'è una penna è esplosa con tutto l'inchiostro che è uscito quindi penso che la butterò via spero non abbia sporcato andiamo a vedere no non è sporcata c'è un'altra penna questa non è esplosa però almeno non so neanche se scriva un altro di quei fidget spinner no come si chiama fidget toy bellissimo questo un cube per non per passare il tempo nei momenti di ansia non lo so però è molto bello questo piccolino un porta memory card vuoto giustamente questo lasciamo perdere questo lasciamo perdere youtube non credo che non lo apro il vecchio caro coltellino altri piercing che mi ricordo questi li ho tolti mille anni fa quando sono andata dal dentista prima di scoprire che dovevo operarmi tutte quelle cose che voi non sapete perché non ho detto niente su internet e quindi sono rimasti qua infatti c'è una pallina del piercing perché perché sono dovuta andare a fare delle tag delle tag e e ho dovuto togliere tutti i piercing e non mi ero ricordata che li avevo messi qua vabbè ma tanto non li metterò mai più perché ho deciso che voglio più portavogli essere più minimal possibile e basta ok allora le cose che tengo sono indubbiamente le chiavi ah nella tasca piccola il fidgetto il il vecchio caro coltellino le penne quasi quasi le metto tutte lì ci stanno perché forse questa qua è troppo grande proviamo ok ci stanno tutte poi metterei anche forse l'assorbente per essere il più discreto possibile e anche l'accelia ok e questo no perché non so cosa me ne faccio e quasi quasi nel taschino metto anche le cuffiette e direi che quel taschino è a posto così poi mi tengo questo ovviamente che mi serviva anche prima quindi direi che mi serve e basta il sacchettino che ne ho anche un altro ma non è qui è di là perché l'ho usato ieri e c'è quella roba dentro poi tengo le mascherine tengo i portafogli giustamente portamonete e portafogli è che si sia sbottata molto però almeno ho tolto le cartacce poi gli occhiali il power bank e basta no queste gomme qua che sono buonissime però le metto qui nella tasca delle gomme ok e i passoletti anche li andrò a mettere qua per ora no perché questa è la tasca dove di solito metto il cellulare quindi poi anche delle tasche laterali però non non si chiudono bene quindi ho paura che le cose escano quindi non ci metto mai nulla e basta andrò a pulire questo perché è schifo e basta tutto il resto lo butto o lo metto via ok qui un'altra tasca ma non ci ho messo niente dietro un'altra tasca che però ho la foto di mia nonna che è morta quindi so già che non lo butto via e ho questo e ho questo che me lo porto dietro da quando sono piccola che è un animaletto che ancora non ho capito che animale è però bellissimo e basta spero che questo decluttering ti abbia fatto rilassare noi ci vediamo in un prossimo video io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura grazie a tutti